Bene. E là, tigre? Tutto bene? Tutto bene? Ho un occhio tutto nero. Ai, ai, ai. Vediamo un po'. Ascolta, non voglio che tu ti sentai colpa nei miei confronti per non aver vinto. Immagino che il tuo avversario fosse molto grande, no? No, piccolo. Ah, è certo un ragazzino delle case popolari. Sono molto furbi quelli, sviluppano i loro riflessi andando in giro a vendere giornali. Ma si tratta di Leslie Kingson. Hai detto Leslie? Scusa, ti dirò io cosa facciamo. Lunedì mattina tua madre ti compra un bel paio di guanti da box. E colpirà Leslie Kingson? Sì, no, no. Ti insegnerò il pugilato così potrai difenderti. Ma tu non vuoi che picchi le ragazze? Ragazze.